Allora, siamo un po' fuori tempo ma noi siamo sintetici, eh? Eh, a tutti! Circoncisi, sì, vabbè! Circoncisi, non lo so! No! Non sarai tutti! Circoncino! Un po' di risata dopo le emozioni intense di questa giornata di studi. Io non so come ringraziare tutti i contributi che sono stati e che continuano, ecco, è straordinario. Parlavo di miracolo e nottevo, oltre agli amici musicisti. Ecco, è stata una mia collega, Anna Zaino, ma non sapevo che era stata allieva di Giovanni Rapetti in anni lontani. Ma la cosa straordinaria è che questa signora Rapetti lo vive quotidianamente, la poesia di Rapetti la vive quotidianamente, l'ha fatta sua. E non ha bisogno del libro, non ha bisogno della carta attrappata perché ne sa memoria. Il l'oralità, ecco, la straordinaria qualità di una poesia che si richiama ai dettami dell'oralità. Anna Zaino lo sa fare. Abbiamo deciso di fare pochi esempi di questa poesia. Io con qualche esemplare della prima produzione, dove lo scoltore Rapetti scolpisce col dialetto i grandi personaggi della Sox. Vi porto un miratur, Chris Geffenheim, che sono due personaggi della sua famiglia. E vi dico chi sono. E lei, diciamo, le quote rosa. Ah sì. Qua presento le donne, le quote rosa. No, no, ma io non lo voglio, mi trovo. Allora comincio con una che è la figura dello zio di Giovanni, che era Nicola Rapetti, zio paterno. morto poi negli anni 60, 70, dopo aver fatto l'esperienza della grande guerra. Prigioniero di guerra, il titolo della poesia è Chris Geffenheim nel 15-18. E l'esperienza che il bambino Giovanni Rapetti fa con i genitori, andare a vedere lo zio nel manicomio dell'Essania. perché era impazzito dopo la prigionia e dopo le cissitudini del Reducente. È stato un marchio, è stata una stimata che, ecco, viene rimasta dentro. Ed è una di quelle cose che poi gli fa scoprire il codice dialettale e il senso del poetare per ribellarsi all'ingiustizia e tutto quello che abbiamo visto. È un omaggio anche al figlio di questo, no, al naso lugino, Gianfranco, che è mancato da poco, Gianfranco. E poi leggerò la poesia di suo padre. Chris Geffenheim nel 15-18. Lo mai visterei, piuttosto che un sorriso, ma l'occhio della tristezza, a chi è un clecmederiz? Gran mette, ma il gigante, vis da Vandegra. Con il bras, natara, pudi di dacchetta. Trondazi l'Isra, l'Isra è un bosco fluviale. Trondazi l'Isra, la rannavano a spali, portandoli in peis, che staccavano il pali. Me pari, una vista sfonde il petto sapion, manetta cedi, continuava col pion. Riva la barca, allora, uscariava. Visca, uscogì, con bella pion, us tornava. C'è chi un'isba la zona, pò spì, mei smentieri. Compagnone da Minona, andato a troverlo. Duttana, li hanno legge, la camisa a forza. Qua c'è le candelli, per specula morsa. Mense, Minona, son partì al deserchè. Hai girato in Tlaustria, prima a troverlo. C'era più chi creda. Consiglio a Pineni, ma in Lampo da Cà, l'era usò di colè. Le sortì, ormai vedi, da quell'ospedale. Seguì la pensione da nomi normale. Ma in Austria c'è la testa, nel fissla da Rente. Davio col poti, a col santo, capace lì? Socio, piangi col passà, si può servì, ancora. Con il mondo prepotente, un sapo più che il bo. Su buio sogno, e la coscienza crea, trat colpidebile e spegne sta fadella. Grazie. 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 Grazie.